Una rincorsa affannosa contro il Tempo per decidere le candidature al vertice della Regione e le liste di appoggio che dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 marzo. Di ufficiale c'è solo la candidatura di Andrea Greco per il Movimento 5 Stelle e quella di Roberto Ruta con Ulivo 2.0 scelto da oltre mille delegati, malinteressato, ancora non scioglie la riserva. Nel centro-sinistra di Fratture e Fanelli, scalpita il governatore uscente, designato non senza mal di pancia da un nutrito gruppo di amministratori comunali convocati nei giorni scorsi dallo stesso Frattura all'hotel Rinascimento di Campobasso. È da sottolineare la circostanza che tra i sindaci e gli assessori che hanno sottoscritto il documento pro Frattura, una ventina di loro sono stati gratificati con l'assunzione a tempo determinato prorogabile attraverso apposite short list o hanno incassato l'assunzione del figlio alla protezione civile come l'assessore Pietro Maio del Comune di Campobasso. Inoltre, molti di questi personaggi politici premiati dovrebbero candidarsi nelle liste a sostegno di Paolo Frattura. Dunque, tra longliste, shortliste e liste elettorali, la confusione è pressoché totale, ma tant'è. Intanto, la segreteria regionale del PD, convocata da Michela Fanelli, ha dovuto registrare una netta spaccatura al suo interno tra favorevoli e contrari e non è riuscita a decidere nulla sulla candidatura di Paolo Frattura. Ora si tenderà l'ennesima mediazione a Roma, ma la situazione appare al momento irreversibile. Alla riunione non ha partecipato Nicola Messere, che ha rimesso il suo mandato dopo la sconfitta elettorale. Anche il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Donato Toma, ma moltissimi esponenti della coalizione sono sul piede di guerra e potrebbero individuare un secondo candidato da contrapporre a Toma. A tal proposito, circola il nome di Luisa Iannelli, già fedelissima di Filoteo Di Sandro. In rotta di collisione con il professionista campo bassano, anche i movimenti civici, pronti a puntare su Massimo Romano, e resta sullo sfondo anche la candidatura di Roberto Fagnano, avvocato, già direttore della Direzione Generale della Salute con il governo Iorio e attuale direttore generale dell'Asle di Teramo. Infine, la segretaria della UIL, Tecla Boccardo, con una nota, ha precisato di non aver mai avuto contatti diretti e di non aver dato nessuna disponibilità per la sua candidatura al vertice della Regione. «Resto nel sindacato e con la mia gente per dare la speranza di un futuro migliore», ha dichiarato la segretaria, che però si è tirata indietro solo dopo che il centrodestra aveva scelto altri candidati. Tira dritto, invece, Michele Marone, pronto a ufficializzare le tre liste che lo sosterranno.